Ecco qua, l'isola di Sowë nel lago Vittoria, è un'isola dove non c'è acqua corrente, dove non c'è energia elettrica, dove ancora in parte non sono arrivati i tetti in lamiera perché non hanno soldi, siamo a circa 40 minuti di fuori bordo, di motoscafo qui, che è una canoa utilizzata da Busabala, dalla costa, saremo almeno una qui, un'altra cosa quindi in Cina, 20 km lontani, l'isola di Sowë. Go so slow, tia. Amazungu Amazungu So we stay here now Amazungu 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti